quindi siamo qua nella zona dove verrà costruito il tutto presumo vero franco e barbara sì sì l'aria sottoposta intervento di costruzione questa quindi tutta questa zona che vediamo sull'autodestra davanti a voi sono mille settecento e qualche metro diviso due perché vengono costruiti due fabbricati due ville singole ah ok due ville unifamiliari ognuna indipendente dall'altra garage al piano non saranno con l'interrato visto che ultimamente gli interrati finiscano sempre a bagno abbiamo deciso che facciamo il garage all'americana quello al piano siamo in una zona semicentrale praticamente lì c'è il centro di fabria qui sulla destra c'è il centro di fabria per cui tutto comodo da raggiungere a piedi scuola banca per esattezza 350 minuti dal centro di fabria per esattezza Grazie a tutti.